Buona giornata. Oggi una frase di Marilyn Monroe. Continua a sorridere perché la vita è una cosa meravigliosa e c'è così tanto da sorridere. Oggi ti invito a sorridere di più e non te lo dico solo io, che a me piace da matti, ma te lo dice una grande della storia. Marilyn Monroe. Quindi continua a sorridere perché la vita è una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima che è stata messa lì per te, te lo dice un bischero. È lì per te, è lì perché tu ne possa godere e c'è così tanto, così tanto da sorridere. Per cui se proprio non sei a tuo agio con il ridere in maniera così semplice, senza motivo, ti guido io. Qui nelle schede finali troverai un video di yoga della risata, che ti aiuterà a fare pace con questa bellissima cosa, ridere. Perché ridere è una cosa grandiosa, grandissima. Quindi oggi impara a ridere, impara a ridere di gusto, impara a ridere di cuore, perché la vita è una cosa così meravigliosa. Daniele Paci per felicità e pace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata. Ciao. Ciao.